La Corte di Cassazione ha reggettato il ricorso avanzato alla difesa, confermando quindi la sentenza di condanna a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni a carico del gioielliere rosolinese Carmelo Basile, ritenuto responsabile dell'uccisione del cognato, Salvatore Cottonaro, assassinato in strada con 7 colpi di pistola la mattina del 25 gennaio 2006. La Procura Generale aveva chiesto di annullare senza rinvio la condanna di Basile, ma i giudici hanno ritenuto dover procedere diversamente, aderendo invece alla richiesta della parte civile costituita dalle due figlie della vittima. Si chiude così l'intricata vicenda giudiziaria, iniziata con la richiesta della Procura di Siracusa di rinviare a giudizio Basile per rispondere di eccesso col poso di legittima difesa. Il primo grado, il giudice dell'allora sezione di staccata di Avala, aveva assolto l'imputato, difeso l'avvocato Giucco, con formula piena. Le figlie della vittima presentarono un esposto, chiedendo l'intervento del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Catani, che così avvenne. Con sentenza del 5 aprile 2013, la Corte d'Assise d'Appello ha riqualificato il fatto come omicidio volontario e ha disposto alla trasmissione degli atti della Procura di Siracusa. Successiva sentenza il 18 gennaio 2016, quando il Gup Tripi ha ritenuto Basile responsabile del reato di omicidio volontario, riconoscendo al contempo le atturanti generiche legate alla provocazione da parte della vittima, con la riduzione di un terzo della pena. Poi la conferma della condanna in Appello, mentre adesso arriva la condanna definitiva dalla Corte Suprema, sulla quale vige l'indulto. Cinque visioni diverse di una stessa faccia della medaglia è eccessivo. È eccessivo e rafforza il mio convincimento che il Parlamento deve mettere ordine in questa materia, che è una materia che riguarda la vita e la libertà di tutti i cittadini. Non è possibile che una medesima vicenda possa essere configurata in cinque modi, tutti in contrasto fra di loro, e arrivare poi alla conclusione che il libero cittadino che una mattina si alza e per sua sfortuna si imbatte in un incontro più o meno casuale a seconda di quello che può accadere e si ritrovi a doversi difendere la propria incolumità, la propria libertà, la propria esistenza in vita. E per fare ciò poi deve passare dalle forche caudine del carcere, degli arresti domiciliari, di 12 anni di processi per potersi vedere alla fine a irrogare una condanna che per nostra fortuna non sarà eseguita nel termine di ritorno in carcere perché c'è stato l'indulto del 2006 che in qualche modo ci dà una mano perché la condanna definitiva è a sei anni e due mesi. Considerando che c'è stato un anno di arresti domiciliari e tre anni di condono, si potrebbe tranquillamente optare per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Questo è il motivo della mia denuncia. Ma tornando al caso specifico, sette colpi in sequenza non sembrano eccessive per la legittima difesa? Nel momento in cui uno viene aggredito da una persona armata e l'aggressore era armato, anche se il convincimento della persona che assisto era che avesse nascosto un fucile a canne mozzi e in effetti poi aveva un manganello telescopico, ma considerando che due giorni prima lo aveva massacrato di botte a mani nude e Basile pensava che fosse in possesso del fucile, anche perché è contemplato in tutti gli atti processuali, su questo sono tutti i concordi, che Cotonaro si vantasse di essere in possesso di armi, di armi da fuoco, aveva avuto più condanni di questo genere. Quindi nel momento in cui ci si difende e si rimane paralizzati, fermi, dentro la propria macchina e si spara, tu non stai lì a guardare se devi sparare in alto o in basso, spari per difendere, siccome peraltro lui lo aggrediva a una distanza molto ravvicinata, è stato colpito il bersaglio grosso, ma il procuratore generale della Cassazione ha fatto rilevare come un solo colpo sia stato quello che ha attinto mortalmente la vittima, tutti gli altri sono stati colpi che hanno solo sfiorato lo stesso. Grazie.